Ciao a tutti! Prima di iniziare questo video vorrei dirvi un paio di cose. La prima è che dal 28 ottobre mi troverete su CioèTube, quindi dovete correre tutti in edicola a comprare CioèTube. Dato che è tanto che non faccio più video nella mia cameretta, come avrete notato, perché sono sempre in giro a fare vlog due settimane fa al raduno di Favij la settimana scorsa al raduno di Anthony, poi sono stata anche al Games Week, di quello non ho potuto fare il vlog. Comunque ho incontrato Zoda, Martina Piccu e Mattia Ruta. Comunque oggi non sono qui per parlare del Games Week, comunque di raduni vari. Oggi sono qui per fare un video un po' particolare, nel senso che oggi sono qui per parlare di quel periodo del mese. Si chiama Ciclo, quella cosa che noi odiamo, che non vorremmo mai nella vita. Quindi cosa facciamo noi ragazze quando abbiamo il ciclo? Spero che il video vi piaccia, se così lasciate un bel pollice in su e niente, io vi lascio al bel video. Sì, bel video, si vedrà. Insomma, se vi piace lasciate un pollice in su. Se il video non vi piace lasciate un pollice in su, lo stesso perché... perché sì. E comprate CioèTube dal 28 ottobre. Buona visione! No, ma Dio mio che caldo fa, insopportabile. Ma sono finita in alasca per trovare tutto questo freddo, Dio mio. Ma cos'è questi brufoli? Cos'è questo schifo? Perché la vita è... Perché? Perché sono così sola? Perché? Non mi vuole nessuno. Non è giusto, però... Non c'è bisogno di qualcuno. Mi spalle sempre su di sola. Pronto? No, non voglio uscire oggi, di lasciarmi in pace. Sono sola che palle. Che palle ho fame. Però guarda qua come sono cicciona. Uffa. Ma sì, sì, ragazzi. Ragazzi, stasera si balla di brutto! Ragazzi, io passo! Troppo male! Madonna, no, no, no. Prof, mi scusi, potrei andare in bagno? Ma anche no. Ma prof, è urgente. No, Togno Latti, no. Proprio no. Prof, mi scusi, potrei andare in bagno? No. Prof, è urgente il bifo. No, Togno Latti, non vai in bagno. No, non ci vai. Prof, mi scusi, potrei andare in bagno? Ma ovvio. Che no. Beh, mi scusi, adesso io va. Troppo tardi. Grazie, prof, comunque che mi ha lasciato andare in bagno. E niente, ragazzi, questo era il video. Era il disagio di noi, ragazze, quando c'è quel nostro periodo del mese. Niente, se il video vi è piaciuto lasciate bel pollice in su. Grazie ancora per aver guardato questo video. Iscrivetevi al canale perché è gratis. E seguitemi su tutti i social che vi lascio qui sotto in descrizione. Soprattutto Musical.ly, perché ormai Musical.ly è la mia droga. Cioè, drogata di Musical.ly. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti